È molto importante essere aperti ed onesti con i tuoi figli, specialmente quando si deve parlare di argomenti difficili. Vediamo come rispondere alle loro domande e come supportare la loro comprensione del mondo che li circonda. Ecco quattro step che puoi utilizzare per ogni argomento con i tuoi figli o con i tuoi adolescenti. Punto 1. Sia aperto, onesto e di supporto. Fai ai ragazzi delle domande in maniera aperta e senza remore e cerca di scoprire che cosa conoscono già di quell'argomento. Rispondi sempre con onestà alle domande. Pensa a quanto può comprendere tuo figlio e come spiegare al meglio qualcosa in maniera adeguata alla sua età. I tuoi figli si possono sentire spaventati o confusi. Offri loro la possibilità di condividere i loro sentimenti e fai capire che ci sei per loro. Step 2. Va bene se non hai una risposta. Se non sai rispondere a qualche domanda di tuo figlio o di tua figlia puoi dire qualcosa del tipo noi pensiamo questo ma non ne siamo sicuri. Non lo sappiamo ma stiamo riflettendo sull'argomento. Speriamo di trovare presto una risposta. Utilizza una di queste strategie per trovare la soluzione insieme a lui. Insieme potete trovare delle risposte nuove. Step 3. Vai alla ricerca di fonti affidabili. Assicurati che quello che leggi su internet sia corretto. Analizza siti raccomandati affidabili per essere sicuro che le informazioni che condividi con i tuoi ragazzi siano aggiornate ed accurate. Step 4. Concludi con una nota positiva. Avendo affrontato argomenti difficili con tuo figlio o con tuo figlio verifica che siano tranquilli, che siano bene e non siano turbati. Ricorda loro che ci tieni e fai capire loro che possono parlare con te tutte le volte che ne sentono il bisogno. Parlare di un argomento difficile offre l'opportunità di stimolare sentimenti come empatia e comprensione con il tuo bambino o adolescente. Puoi fare ciò anche chiedendogli cosa pensa che altre persone provino parlando dei millesimi argomenti.